Questo programma vi è offerto da... Buongiorno, se dico fertilizzante, lei cosa risponde? Ah, Cifo! Cifo, ascolta le tue piante! Benvenuti a Natu, il programma con l'accento sulla natura. Sempre caro mi fu quest'ermocolle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Così Giacomo Leopardi nella splendida poesia Infinito cita la funzione principale della siepe, precludere lo sguardo. Le siepi infatti sono costituite da filari di piante, solitamente sempre verdi, che possono avere diverse funzioni. Delimitare un confine, proteggerci dagli sguardi indiscreti dei vicini, ripararci dal vento, avere una funzione fonoassorbente o più semplicemente essere un elemento decorativo. Come dicevo, le siepi di solito sono costituite da piante sempre verdi per poter sfruttare i benefici anche d'inverno, però non sono inusuali siepi anche a foglia caduca oppure con fiori. Di questo ci parla Laura dal Via Garden Store di Parma. Sentiamo. Ciao Riccarda, ci troviamo nel vivaio di Via Garden Store a Parma. Siamo qui in compagnia di Fabio, ciao Fabio, che ci illustrerà quali piante scegliere per creare una siepe, perché oggi appunto parleremo di piante da siepe. Se ce ne elenchi qualcuno e le loro caratteristiche? Certo, una prima differenziazione possiamo farla in base all'altezza delle piante da siepe. Le prime che possiamo trovare, tra quelle più alte, sono appunto la fotigna, il lauroceraso, anche chiamato prunus, o anche il pitosforo, che arrivano intorno all'altezza di due metri. Altre piante un po' più basse, diciamo, l'altezza quindi intorno al metro, metro e mezzo, troviamo gli evonimus, il lauro o altrimenti anche la piracanta. Queste più o meno sono appunto tutte le piante messe in comune dal fatto che sono sempre verdi e quindi hanno una buona copertura, una buona resistenza all'inverno, quindi copertura di una siepe tutto l'anno. Ma se io avessi bisogno di una siepe che cresca in fretta, quale di queste piante che hai appena elencato mi consiglieresti? La scelta può ricadere innanzitutto sulla fotigna, che è una pianta molto rigogliosa, che ha una crescita molto rapida. In un paio d'anni può ricoprire completamente due metri, quindi coprire un'intera siepe. O altrimenti piante come il lauroceraso o piante come ad esempio il viburnum, che rimane a una media altezza però ha una crescita molto rapida e anche una fioritura per quanto riguarda il periodo primaverile. Benissimo. E queste siepi, alcune di loro fioriscono queste piante? Sì, le particolarità magari fra alcune piante sono quella del pitosforo, di fare dei fiorillini bianchi nel periodo estivo, abbastanza profumati, o altrimenti come quella della piracanta, di fare questi fiorillini bianchi che poi diventano delle bacche. Grazie mille Fabio dei tuoi consigli, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao Riccarda. Grazie Laura. Tra le cure necessarie per mantenere in forma i nostri amici cani spesso ci dimentichiamo della toilettatura. Anzi, spesso la consideriamo proprio una vera seccatura, quando in realtà essa è molto importante, non soltanto da un punto di vista estetico, ma per la salute e l'igiene del nostro amico a quattro zampe. Attraverso la toilettatura, infatti, si possono prevenire pericolosi dermatiti, si possono combattere i parassiti e in generale si fa un check-up della salute del cane, proprio perché attraverso la toilettatura bisogna osservarlo attentamente. Noi sappiamo che la prima prevenzione è proprio l'osservazione. Di questo noi abbiamo parlato con un esperto che ha incontrato Celeste da Zogiardineria di Casalecchio di Reno. Ciao Riccarda, sono a Zogiardineria con Luca, che oggi ci parlerà di toilettatura. La toilettatura è indispensabile per rendere più facile la vita del cane, il cane in famiglia. I proprietari impegnati dal lavoro non riescono spesso a spazzolarli e loro hanno bisogno invece di avere un mantello sempre ben tenuto. Quindi esistono i toilettatori e la toilettatura relativa. Ogni soggetto ha la sua toilettatura che li fa poi anche più belli. È molto costoso? No, in linea di massima qua abbiamo dei prezzi medi a livello nazionale e in certi casi siamo molto competitivi. Esistono tipi di toilettatura specifici per i concorsi di bellezza di cani? Sì, ogni razza ha uno standard di toilettatura e ogni toilettatore ci lavora a modo suo per fare il cane sempre più bello. Poi nell'ambiente cinofilo ci sono diverse situazioni che vanno le gare di toilettatura, le gare di esposizione di bellezza dei cani. Ci sono diversi specialisti in ogni settore. Io per esempio mi occupo di gare di bellezza dei cani. E prima di preparare i tuoi cani che cosa occorre fare? Beh, nel mio caso devi tirare su un bel cane, alimentarlo in modo sano, corretto, devi avere un bel mantello, una bella muscolatura. Devi sapere camminare perfettamente al guinzaglio al tuo fianco, andare avanti e indietro e un sacco di cose. Poi si lavora anche sulla toilettatura giorno per giorno per renderlo perfetto e impeccabile. Quindi non è una cosa che si fa in mezz'ora? Serve almeno... Dipende in ogni caso dalle razze. Per i barboni che si possono preparare il giorno prima, ad esempio, richiedono 5-6 ore di toilettatura sul tavolo per diventare così belli. Poi l'acca a chili. Anche l'acca, anche prodotti... Sì, tantissimo uso di prodotti di bellezza, dallo shampoo, ci sono un sacco di... ogni cosa ha il suo prodotto.